SIGLA SIGLA Ora, guardate un attimo intorno. Siamo seduti al tavolo con una decina di persone che non conosciamo e che non fanno nient'altro che mostrarsi per quello che non sono. Guarda, guarda, si parlano tutti addosso senza ascoltarsi veramente. Se non ci fossi stata tu stasera, probabilmente mi sarei seduto con una persona così. SIGLA